Parte l'aereo, decolla, a un certo punto il comandante, quando sono arrivati in stallo, il comandante prende il microfono e fa benvenuti a bordo del volo 747HZ295, il decollo è andato tutto bene, siamo alla velocità di crociera, viaggiamo a 900 km all'ora e il comandante vi augura buon viaggio. Mette giù il microfono del citofono, però lo mette giù male, allora a un certo punto fa Oh, adesso va a fare una bella cagliata e poi da Pampastem, un bel buchino della hostess. Poi tra l'aereo ho sentito tutto, l'hostess che era laggiù in fondo l'aereo, parte come un missile di scarnata per andare nella cabina del pilota per chiudere il citofono, no? Quando è a metà dell'aereo c'è un vecchietto che gli fa lo sgambetto, fa la sciarugola in mezzo al corrido Noi, due è che tu è bucchino era, dite che prima l'adon dèkha ghe